La lotta alla mafia è un elemento fondante di Fratelli d'Italia ed è stata anche alla base dell'impegno politico della stessa Giorgia Meloni. L'evento che ci sarà a Palermo venerdì, preceduto dalla fiaccolata di mercoledì, è in programma da tempo. È già stato fatto un anno fa e quest'anno lo ripetiamo perché deve essere un appuntamento fisso. Il nostro impegno è indiscutibile, non rinunceremo a nessuno strumento utile alla lotta alla criminalità organizzata, a difesa della legalità, nell'interesse dei cittadini. Il ministro Nordio ha fatto una riflessione, cosa che è ben diversa da porre un argomento all'ordine del giorno, visto che non è nel programma di governo e non ha comunque contemplato la possibilità di abolizione, ma eventualmente di migliore definizione. Sta di fatto che questo non è nel programma di governo. L'impegno contro la mafia di questa maggioranza, di Fratelli d'Italia, è assolutamente indiscutibile. Ci sono anche stati gli evidenti successi, l'arresto di Matteo Messina Denaro, la stessa operazione che è stata fatta oggi a Palermo, l'azione per evitare che boss mafiosi non pentiti potessero usufruire di liberazioni anticipate. Devo dire che l'impegno di Fratelli d'Italia è davvero indiscutibile. Le polemiche, francamente, si potrebbero fare su altre cose, non su temi che dovrebbero trovarci tutti uniti, come il contrasto alla criminalità organizzata. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della nazione, è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e ha tutti i ruoli che la Costituzione gli assegna e noi intendiamo evitare parimenti uno scontro fra poteri. Ogni potere deve fare il proprio dovere, deve essere...